Bene amici del Salute Cord, benvenuti in questo rapidissimissimo video dove vi spiego il motivo per il quale non viene sincronizzata la rubrica di Gmail, quindi di Google, sui Freaksbox. In realtà ho scoperto che non solo il 7490 ha questo problema, ma in realtà anche il 7390, ho guardato solo gli ultimi due modelli. Quindi una volta inseriti tutti i vari parametri per quello che riguarda la rubrica di Gmail, appare sia qui un errore che poi anche in fase di configurazione avviene questo errore 14. Ho trovato una FAQ recentissima dove dice a causa di una modifica da parte di Google, avvenuta il 27.5.2015, i contatti di Google attualmente non potranno più essere sincronizzati nella rubrica del Freaksbox. Metteremo a disposizione una soluzione con il prossimo aggiornamento FreaksOS. Ringrazio un utente che mi ha fatto questa domanda sul video che ho pubblicato riguardo alla recensione del 7490, non si sincronizza. Da domani tartassamento a manetta per quanto riguarda il call center AVM, facciamo una pressione forte affinché rilasceranno, si spera, un FreaksOS nuovo, ma deve essere al più presto possibile. Il problema c'è dal 27 maggio, quindi direi che siamo a luglio, magari un aggiornamento Freaks, in realtà AVM avrebbe potuto farlo. Mettete un mi piace al video, condividetelo con chi potete, chi volete, mettete tantissimi pollici in su, iscrivetevi al canale, ciao dalle Soundtech World!